Che cosa vuol dire la parola guacince? La parola guacince risale ai tempi del XVII secolo e c'entra con Inghilterra. In inglese significa ti sto guardando. Praticamente i proprietari dei vinicoli qua alle Canarie vendevano il proprio vino ai bordi della strada ai turisti inglesi che erano di passaggio qui, sperando che il vino fosse di loro gradimento per poi esportarlo in Inghilterra. Ovviamente per accompagnare il vino le mogli di questi produttori offrivano anche delle piccole porzioni di cibo. Lo scopo principale dei guacinci è la vendita del vino. Infatti si possono trovare aperti pochi mesi all'anno finché non finiscono il loro vino locale e rimangono chiusi i battenti fino alla prossima vendemia del prossimo anno. La cosa tipica del guacince è la cosa di mangiare come fossi in casa, in casa di dove ti trovi, che può essere una cantina, una bottega come può essere qua o proprio un vero e proprio garage o addirittura in mezzo ai platani.